Nello scorso fine settimana, oltre 2.500 profughi sono stati salvati nel Mediterraneo in una dozzina di operazioni. Gli sbarchi, oggi a Palermo, Augusta, Catania e Reggio Calabria, lo comunica ONHCR, una nave militare svedese dell'assetto Frontex con a bordo 356 migranti e 8 salme, recuperati in condizioni di soccorso nel mar Mediterraneo e arrivata nel porto di Catania. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero sei donne e due uomini. Sono in corso le operazioni di sbarco e trasferimento in altre regioni d'Italia. La squadra mobile della Polizia e Stato ha avviato le indagini per identificare eventuali scafisti e dinamica e causa della morte degli 8 migranti. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Dalla nave Voss Prudens di Medici Senza Frontiere a Palermo sono sbarcati 724 profughi, tra cui donne e bambini salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. A bordo anche la salma di un migrante. Le operazioni di sbarco sono state compiute al molo 420. Nello specifico si tratta di 596 uomini, 89 donne di cui 30 in gravidanza e 53 minori non accompagnati. Sono del Bangladesh, del Burkina Faso, Benin, Camerun, Egitto, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Mali, Marocco, Nigeria, Niger, Pakistan, Senegal, Sudan e Siria. Ad accogliere i migranti era la task force coordinata dalla Prefettura di Palermo. Sulla banchina anche i volontari della Croce Rossa e della Caritas. Sono stati visitati dai medici dell'Asp. Sulla più grande delle isole delle Pelagge sono arrivati 102 migranti, che erano stati soccorsi da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Sulla banchina del molo commerciale anche il dottor Pietro Bartolo, coadiuvato da personale della Misericordia e dalla Croce Rossa, le due associazioni che gestiscono il centro di accoglienza di Lampedusa, dove ci sono poco più di 200 migranti in attesa di essere trasferiti.